ciao raga benvenuti a un nuovo video oggi giochiamo ad adottomi con noi ci sta elli come ogni giovedì siamo nella live di franci tra poco questo non vuol dire che le diamo fastidio infatti non le diamo fastidio perché noi non ci avviciniamo ci facciamo cacchi nostri in più siamo in più tra poco uscirà il nuovo aggiornamento non è andata non la vedo più è andata il mio si vede sfocato provate a ragionare la pagina il vostro tablet computer quel che è ancora fatto perché siamo pronti per la ramanzina? internet che posto fantastico il mio figlio si è intrucolato nel server nonostante avessi chiesto che non è già uscito dal server che nessuno ci rimanga male allora non ho capito che ha detto adesso con calma e per piacere dobbiamo ricordarci di cosa devo parlare allora sì a breve ci sarà un nuovo aggiornamento e sì dai jenny adesso quindi a questo punto in realtà non è ci è rimasto che ti ti nascosta? ti devi far vedere perché ti nascosto? che non si potrà troidare perché c'è anche il chic allora vieni 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 allora non mi distraite ragazzi perché sono veramente cambiato però non l'ho fatto io me ne ho chiesto per favore no no allora te lo veste allora fatemi pensare sì a breve usciranno i pet uno sarà a pagamento mentre l'altro no però se siete entusiasti di questi pet se non vedete l'ora di vedere questo capricorno che sembra un vermicello mi lato lasciate un bel mi piace non dimenticate non dimenticate il mi piace e di nuovo e di nuovo ragazzi volevo ringraziare tutti voi che avete fatto le donazioni davvero 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 ma perchè me ne è scappata? ma c'è nada resto sempre estremamente sorpresa e felice la gente che si unisce è stata inventata una cosa di google e si riescono a trovare le persone allora che sta dicendo? poi franci domani è un concerto di musica sono il mio livello app è casa tua ma sono andato in campeggio una volta non spacca tutto schiudi un uovo che dite ce la facciamo a schiuderci un uovo? così facciamo anche la missione ah e in realtà volevo fare un sondaggio che mi sono dimenticata eccolo qui adesso ve lo faccio partire subito ma che cosa è vicino? ma che se ne frega vieni allora tanto non mi vedi non esco l'alena non l'ha scritto perchè non l'ha scritto? si è bloccato si è bloccato oh no si è disconnesso ok ok ragazzi siamo entrati in una nuova serve purtroppo non abbiamo trovato franci perchè si è collegata in una nuova qualsiasi e non siamo riusciti a trovarla però ci sta un nuovo aggiornamento che? ho detto triste però siamo però è uscito il nuovo aggiornamento adesso andiamo a comprare il petto questo qua questo qua si chiama il Capricorn costa 1250 e ti da anche la casa però io non posso averlo perfetto andiamo al centro andiamo al centro intanto poso questo tanto dovrò fare quell'altro neo andiamo al centro andiamo dov'è adesso però costo un botto proprio costo sto petto vediamolo l'hanno messo qui ecco ci sta già la zia Lelli stupendo 2500 una rapina wow bellissimo vediamolo come neon I'm poor perchè dici che sei povera? lo devo vedere nei commenti ah uno già mi fa il trade vediamo cosa mi offrono per questa si squirrel car perfetto vediamo come li vediamo come neon no ho sbagliato giornale per e che cosa era un comune? ultrararo ultrararo non comune volevo dire leggendario ho detto non comune ok ultrararo dov'è? bellissimi mi riescono le cose azzurre mega ma mega non potrò mai fare chi costa un botto quindi non ci è chi è? che dico addio no vabbè Mary che cosa lo fanno? ciao allora facciamo calcoli eh solo 4 costa 10.000 solo 4 costa 10.000 solo 4 costa 10.000 allora saluto Mati e Kami si si sono sono si sono loro quello che ti dicevo prima ciao cosa e cosa no che dico ciao Mati e Kami e Mati non è dato il platus Mati perché non è dato il platus? Ellie ma come è dato il platus? sono un po' affesa grazie se dopo vieni facciamo un attimo lo screen Sonica chi è adesso? cosa dico? ciao Ellie Mornica perché non fa delle belle offerte? ma un'offerta per il mio platus flyer ride no ma un'offerta per il mio platypus ma guarda questa tagliami raccomando perché? ma guarda chi sta ma mi ha fatto frill aspetta non so cosa frilla io non c'ho niente tu sei più ricca di me bambi no ragazzi non lo voglio bambi flyer ride questo coso mi so lei vuole qualcosa a flyer ride un pet di valore tipo un camaleonte o un cos'è che è questo? o due rgb box o due rgb box anzi no mi ha dato questo perché mi ha dato molto di più di una rgb box cosa cosa cerchi cosa cerchi un pet che vale più o meno molto flyer ride e non c'ho niente di flyer ride cioè che vale tanto non ne ho non ne avere perché perché non mi scrive ho perché non scrive ho sono povera intanto inizio è una parolaccia ho è una parolaccia in inglese vuol dire putt**a ecco che dovrò vippare l'ho perso l'ho perso che doveva andare a scuola eccolo zia dove sei facciamo lo skin ma questo serve è poverissimo ma scuola no dobbiamo cambiare le serve questo serve è poverissimo ragazzi vi piacciono le albicocche? commentate qua sotto a me mi piace però non mi piace il succo l'albicocca è più grande di me questo petto non mi si vede la faccia vedi 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 esatto ma lì la mattina mi pare come mi chiami salutoa camilla li saluto camilla ciao camillina saluta camilla ciao camilla ciao camilla camilla non ho ne camilla andiamo tra zalelle io la vedo dove Sì, sì, io ti avrei salutato Mary! Che succe? Sono buggata Ma dove sei? Dov'è? No, dove sono? Dai! Mi raccomando, vi fa tutta sta cosa Che cos'è? Vieni Hai trovato il passaggio segreto? Cosa ti dice, Elena? Aspè, mi ritipo Elena, guarda cosa fa No, no, no Elena, guarda cosa fa Guarda cosa fa Ellie, in tua stanza Nella tua stanza, Mary, io ti ho trasportata Nella tua stanza, happy birthday A bandiera dei trans Ah, che c'era la doccia, Elena Cosa dice, c'era anche Marco S'automarco Ah, non c'è Marco Sì Io Aspetta Io sono In un posto segreto Non lo può sapere nessuno Salute Ecco Scrivete nei commenti Ellie, edita i video Qua non ci sono Ci sono Scegliere Ellie, edita i video Penso Il nome del tuo canale It's Ellie, Roblox Mi ha messo Mary Ellen Io me l'ho spesso sbagliato It's Ellie Roblox And Mary Ellen Penso che sia tutto un canale Ok Andiamo da Zarelli Zarelli andiamo fuori Facciamo la foto Al centro, ovviamente Ma questa è la cassacca Al centro questa casa Fake, fake Come è fake? Sì, è in centro, in centro Io le seguo Facciamo la foto Ma questa è nuova, Camilla Tu l'hai mai vista? No Si chiama Come si chiama il canale? Ecco, vai Facciamo la foto Sì, non trovo Chiudo il video Le ho detto tutto Ah, però non ci dice quanto durerà Non ci dice Non ci dice quanto dura Quante settimane Perca, posso per sempre Abbiate, che cosa abbiate? Siete poveri? Tutti dietro Tutti dietro Oh, vicini Ok, raga Il video termina qui Mi raccomando Iscrivetevi al canale Tappate la campanella E lasciate tanti like Al prossimo video Bella, ciao Ciao bella Che hai detto? Ciao bella Ciao bella Ah, perché mi si dice la cosa? Oh, cazzo Oh, cazzo Ho detto cazzo Oh, cazzo Oh, cazzo mio Oh, cazzo mio Cazzo lì Cazzo lì Cazzo lì Ciao 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 Grazie per la visione!